Venire all'ospedale Barono Lombardo di Canicattì ed entrare al pronto soccorso e guardare quelle scene da definire a dir poco disumane. Io sono qui stamattina per evidenziare un po' quello che sta succedendo all'ospedale Barono Lombardo di Canicattì e in particolar modo un po' quello che avviene al pronto soccorso di Canicattì, di questa struttura. Da anni che noi denunziamo carenze di personale, problemi per quanto riguarda la struttura nel contenere i pazienti che ogni giorno si presentano qui al pronto soccorso ma stamattina è successo quello che non dovrebbe succedere, una cosa vergognosa. Uno entra lì dentro e vedere decine e decine di ammalati, ammassati, una accanto all'altro con le brande, gente che vomita, che sta male, è una vera vergogna. Io mi sono attivato informando le televisioni locali che ci danno una grossa mano a denunziare un po' queste porcherie. Ho telefonato ai politici, al sindaco, la polizia è lì dentro al pronto soccorso per vedere un po' di persone, l'ho chiamata io la polizia. Quello che sta succedendo a Canicattì, vogliamo che ci scappa il morto perché intervenga il commissariato, perché intervenga la procura. Vogliamo che ci scappa il morto, vergogna, questo non è modo di trattare la gente, questa è una situazione disumana. Disumana i sindaci, al di là della responsabilità che ha il sindaco di Canicattì, i sindaci di Campobello, Ravanusa, Naro, Castro Filippo, ma che cavolo fanno? Vergogna, hanno delegato il sindaco di Canicattì, ma anche loro si debbono muovere. Anche qui dentro c'è gente di Ravanusa, di Campobello, di Naro, di Castro Filippo, la gente che soppre, sindaci, non dovete chiedere soltanto il voto a questa povera gente. Voi dovete intervenire quando se ne ha di bisogno. Stamattina succederà quello che non è mai successo. Io da qui non mi muovo se non avrò delle risposte, ma non le risposte che debbono dare a me. Le risposte le debbono dare al personale che opera in stato di emergenza, qui al pronto soccorso. Le risposte le debbono dare alla gente che soppre ed è lì ammassata, ammassata, perché non ha dove andare. Il reparto di medicina è saturo, altri reparti sono saturi. Ma in che mondo viviamo? Vergogna, vergognatevi. Ha detto di aver chiamato il sindaco di Canicattì. Io stamattina ho cercato di telefonargli al numero di cellulare che io ho in possesso e lui evidentemente lo avrà fuori posto, però ho telefonato al dottore Geremia, che è il suo capo di gabinetto, informandolo di questa situazione. Ognuno poi si assumono le proprie responsabilità. Fino a questo momento non si è visto nessuno e non verrà nessuno, ve lo dico io. Grazie. Grazie.